Ciao a tutti bentornati nel mio canale questa è la parte 2 del compleanno di mio padre quindi oggi è il suo compleanno se si sente sto guardando Alvin e i Cheekmans nel tv allora ora c'è la parte numero 2 quindi per chi si è dimenticato non ha visto l'altro video dovete subito andare a vederlo a vedere perché ho fatto tantissime cose in quel video là e ho anche fatto di un terpieno ora i coriandoli e adesso se vi ricordate il video dell'anno scorso di quando io avevo dove ho fatto video mio padre quindi con il telefono di mia madre perché lei ne ha due uno l'ha lasciato qui e quello là l'ho usato per chiamare mia nonna prima farò tipo la canzone quando entrerà dalla porta questa qui diciamo happy birthday la canzone e poi e metterò questo telefono qui che sto usando che è mio lì dove c'è il coso per mettere il telefono e così farò video e poi coriandoli e inizia la sorpresa ok quindi prima montiamo il coso per fare il coso da mettere per il mio telefono ok è questo io guardo un po' però voi guardate perché si chiede quello là di Alvin là dove suo padre tipo Dave tipo si è tipo trasformato in un zombie però non era uno zombie ma loro credevano che era uno zombie ma si era tipo solo è diventato tipo sempre che fa l'attore tipo è bucato? lo so e c'è anche pure l'altezza di questo l'hanno lasciato fuori? al parco? uh è il telefono che scuola quindi quello era solo un costume Theodore quindi l'altezza tipo sarà così allora dove ci siamo scontrati ok 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 Ok. Oddio. E allora? Ok. Ok, andiamo qui. Quindi questa qui è la postazione giunta. Quindi questa qui è la bocchina di Ale che è un van, non ci serve. Questa qui è sempre la postazione che è sempre stata così si vede lì dalla porta. Deve essere alta. Quindi ora vorrei che lei putta su. No, basta. Allora, io vi faccio ancora un po'. Ok. Quindi vi aspetto dopo. Come aveva chiamato prima mio padre perché diceva che sembrava che stava piovendo e lui non aveva l'ombrello. Quindi se no ci va il mio cugino a prendere Ale. Però ora sono letteralmente le 5 e 10. Il mio telefono è solo a 26%. Quindi ora lo carico. Cosa ora? Chi è? Ah, ok. Io come tiro sti cosi ora? Oggi è toccato Gesù. Non dare, non dare un attimo in baino. Oh, lui! Perché non va? Allora? Aspetta, non mi scrive, non mi scrive. Sì, sì, sì. Ale, esprida qui. Allora, ci sono. Happy birthday to you. Sì, sì. Sì, sì. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sì, sì. Sì, sì. Lo so che un picco guarda. Ora ci ha chiamato che l'aia. Ce mai l'exprim. Happy birthday to you. E dopo puliamo. Ah, che si vedrà. E' un piccolo senso. Non finire pariando le altre. Dai, dadi, dadi, vai in cucina. Ora, eccomi qui. Ecco qui l'ho scritto buon pomeriggio. E vai, 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 vai. Entra. Ale, dove sei? Arrivo. Allora, dove sei? Chiù. Dove è Ale? Dove è Ale? Ale! Happy birthday! Happy birthday! Dove sei Ale? Dove sei Ale? Dove sei Ale? Non piangere, c'è la data del tuo regale. Do you, vai, Ale? E io? No, c'è la data del tuo regale. E io? Sì. No, ce ne sono lì della camera! Taddy, ho preparato te. Guarda. E te cos'è? Ale? Ale fa sto coriandoli! Questo è che cos'è? Cos'è? Ale? Voglio dire... Pausa non monota. Ok, io ho pulito i coriandoli che sono lì. Che anche Ale ora sta pulendo perché è più bello pulire i coriandoli. Guardate! Guardatelo! Bene, questi qui sono tutti i coriandoli che abbiamo lanciato ora. Che poi gli altri, cioè questi qua che sono rimasti, che sono ancora tanti. Forse ne taglio ancora se ho tempo e ne ho voglia ora. Taddy, li dobbiamo lanciare dopo. Comunque... Qua ce n'è uno! Bravo, prendelo con le mani. Il nostro... Aiuto! Il nostro padre ci ha dato questo. E ha detto che dobbiamo condividere. Quindi ora vi avete le cose che c'è qua dentro. Però non ditelo perché io sono brava a rimettere le cose. Ho visto tipo un quaderno, un libro con un vestito. Ok, sì. Sì, molto bello questo. Sinceramente è suo. Taddy, finì giù. Ale, no! E hanno dovuto il tè Ale e mio padre. Quindi hanno detto che buono, hanno visto? Io preparo tutto al tavolo. Ok, mio padre è arrivato dal supermercato in Salunga. Adesso ho la torta. Io preparo tutto al tavolo. Allora, questa resta qui. La nostra bella torta che vedremo dopo anch'io. Allora, tutto di noi. Pumukas siata il quadro. Basta sa lìkod. Pumukas? Ligat? Oh sì! Si, aperto! Davvero? Aperto? Di che non ti ha dato? No, è proprio aperto aperto. Guarda con me. Tama d'un. Oh, c'era anche un disbravo. Prendi la pera. Dai, mi faccio vedere. Ecco qua le pere. Come avevo detto nell'altro video. Oh, io già ho preparato il tè. Perché hai comprato il tè e anche la Coca-Cola? Ok, qua è dove metteremo la nostra torta. E questa è la nostra torta. Sembra come quella dell'altra volta, solo al cioccolato, l'altro gusto di vaniglia. Non ti ricordi me non c'è quanti anni. Andiamo. Allora. Ale. Oh, che bella. Ok, è ora che io vi presenti, tanto si vede un po', la torta. Vieni un attimo, quanti anni si date? Al cioccolato. Mettiamo la candelina. Quanti anni hai? 35. 35 anni si date, Ale? Dove è la candelina? Quanti anni si date? Quando oggi hai fatto? 40. Spostati, Ale. No, oggi hai fatto 46, oggi. Hai visto? 46, la visione. No. Ale 45 sono. E di me che sono maggiore anni? E che io ho vissuto i tuoi 12 anni? Lui sono 5? No, la... Io ti conosco di più. La visina sa venire fuori. Allora, che colore vuoi? Rosa, blu o giallo? Prendiamo blu o maschio. Lo sappiamo tutti. Allora, blu o candelina. Eccola qui. Lo si mette proprio come mezzo. Ma prima dobbiamo scrivere quanti anni ha. Allora. Numeri. Uno, due, tre. Allora, vediamo quanti anni hai. Ok. Fatto. Oh no. Ma! Perfetto. Ho scritto quanti anni hai. Oh no, perché questo sembra storto? Ok. Ok. Fatto. Ehm... Come si mette il quattro? Cioè, è stortissimo. Vabbè. Comunque la mettiamo qui nella nostra bella torta. Eccola qui la nostra bella e buonissima torta. La posizioniamo qui sopra il cioccoletto. Ed ecco qui, tadan, 54 anni. Bello, vero, Dadi? 44. Sì, guardate, metti sempre i numeri all'incontrario. Quindi stavolta li ho messi all'incontrario. Felice? No, 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 sto scherzando. Non è 54. Canine, masa canine? Canine, ma, 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 ma. Tandiyam mo, natitura na tayo? Pansip naman na lang ako, kaya pati na lang ako. Ah, wait! Nundi na pa ako. Tandiyam mo! Ciao!